Ben trovati ad ora Tg, apriamo questa prima edizione intanto andando a Catania. Il sindaco Salvo Pogliese sospeso nel mese di luglio scorso, da oggi di nuovo a Palazzo di Città dopo la decisione del Tribunale sul ricorso presentato dai difensori. Oggi riunione di giunta, subito al lavoro per servire la sua Catania, così ha detto. Sentiamo. Era il 24 luglio scorso, Salvo Pogliese tornava dai funerali del grand'ufficiale Luigi Maina per lunghi anni cerimoniere del Comune. La sera prima il Tribunale di Palermo lo aveva condannato a 4 anni e 3 mesi in primo grado per peculato per le cosiddette spese pazze all'Ars. Rientrato a Palazzo degli Elefanti lo aspettava la notifica del provvedimento della profettura di Catania che lo sospendeva per 18 mesi da sindaco. Adesso, dopo ricorso contro la sospensiva e accogliendo la richiesta del Collegio di Difesa di Pogliese sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativo all'applicazione della legge Severino, il Tribunale ha trasmesso gli atti della richiesta di annullamento alla Corte Costituzionale. E Salvo Pogliese oggi, lunedì, ha vissuto così il suo secondo primo giorno da sindaco di Catania. Molto emozionante, diverso dal primo dopo la vittoria del 10 giugno del 2018, forse più inaspettato perché con un pizzico di presunzione ma di altrettanta sincerità ero convinto della vittoria del 10 giugno, questa vittoria processuale, civile, amministrativa in realtà non era certa e quindi sotto alcuni aspetti è stata una grande gioia ma sono soprattutto felice di poter continuare a servire la mia città a cui sono visceralmente legato per la quale ho fatto una scelta molto coraggiosa nel 2018 quando ho abbandonato una comoda poltrona da parlamentare europeo con l'immunità parlamentare che quel ruolo mi avrebbe garantito, affrontando un processo certo del mio comportamento etico e morale è coerente con le norme, è andato male, ahimè, il 23 luglio, oggi abbiamo vinto il primo tempo di una partita molto più lunga su cui poi ci soffermeremo nel futuro, ma intanto è importante tornare a servire ventre a terra, in trincea la nostra città a cui siamo visceralmente legati, voglio ringraziare il vice sindaco Roberto Bonaccorsi, gli assessori del Consiglio Comunale tutti i miei staff per quello che hanno fatto in questi quattro mesi e mezzo molto duri e intensi, hanno lavorato benissimo Pogliese riprende il cammino in un momento storico davvero particolare per la città e non solo per la città e sono stati raccolti i frutti di un percorso tracciato, mi riferisco ad alcune opere che stanno finalmente partendo con i soldi del patto per Catania o del Pommetro, mi riferisco per esempio ad alcuni lavori alla zona industriale in via Palermo, molto importanti, mi riferisco al concorso dei vigili urbani mercoledì andremo a dare il benvenuto a 30 nuovi agenti della polizia locale Oggi la riunione della giunta Noi ci siamo sempre confrontati con il mondo sindacale, ci siamo confrontati con il mondo imperditoriale noi abbiamo rappresentato un'esperienza amministrativa aperta alla città non ci siamo mai sottratti al confronto e quindi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto non è una novità e quindi è giusto confrontarsi con chi ha esperienze, con chi conosce le problematiche Con grande umiltà credo che sia stato un elemento caratterizzante della nostra esperienza amministrativa in questi primi due anni e mezzo, continueremo a farlo ovviamente non dimenticando le responsabilità di chi ha determinato il dissesto in questa città ma comunque facendo tesoro degli errori del passato di altri per poter fare scelte importanti per servire la nostra città come la nostra città merita Tra i primi progetti anche l'impiego di chi è beneficiario del reddito di cittadinanza fra virgolette utilizzare le migliaia di persone in questa città che percepiscono il reddito di cittadinanza la normativa prevede che devono essere impiegati per finalità di interesse collettivo è giusto che ciò venga fatto il Covid non ci ha aiutato in tal senso chi vi parla non ha mai fatto mistero di non aver totalmente apprezzato questa scelta del Governo nazionale che ritengo sia assolutamente devastante dal punto di vista demagogico perché invita i nostri giovani a non lavorare ma comunque le leggi sono quelle e bisogna rispettarla se c'è una legge, se ci sono migliaia di persone in questa città che percepiscono il reddito di cittadinanza è giusto che servano la loro città adesso la cronaca interrogato dal GIP questa mattina l'uomo arrestato per l'omicidio di frate Leonardo fondatore della tenda di San Camillo a riposto ha ammesso le responsabilità sull'incendio ma non ha negato di aver picchiato la vittima restano tanti lati oscuri nella vicenda oggi l'autopsia sul corpo si è svolto questa mattina davanti al GIP Pietro Currò l'interrogatorio di garanzia del 52enne accusato dell'omicidio di fratello Leonardo Grasso e dell'incendio divampato nella tenda di San Camillo a riposto l'ospite della struttura, Reo Confesso dell'assassinio aveva già reso parziali ammissioni dopo un lungo interrogatorio davanti al PM Angelo Brugaletta, ai carabinieri e al suo legale Alessandro Vecchio il 52enne ha raccontato di aver cosparso di alcol il responsabile della comunità mentre dormiva e di aver appiccato il fuoco ma ha invece smentito di aver prima colpito a bastonate il frate Camigliano una versione che non convince gli investigatori l'incendio infatti potrebbe essere stato solo un modo per nascondere le tracce della brutale aggressione restano ancora da ricostruire diversi passaggi e volti nel mistero per questo la procura di Catania ha disposto l'autopsia sulla salma del prelato oggi pomeriggio l'incarico al medico legale si indaga anche per far luce sulle ragioni del terribile gesto che l'omicida ha ricondotto alla sfera dei rapporti personali ma restano molti dubbi e nodi da sciogliere sulla sconvolgente vicenda che vede come teatro la struttura di recupero di tossicondipendenti l'indagato si trova nel carcere di Caltagirone tre anni fa prima di entrare in comunità aveva accoltellato l'ex convivente ed il padre di lei la DIA di Catania ha sequestrato beni per 2 milioni di euro a Raffaele Donzelli imprenditore del settore della plastica ritenuto dagli investigatori vicino al clan operante a Vittoria nel Ragusano sigilli anche a due negozi di abbigliamento, mezzi e conti correnti Altro duro colpo alla mafia e ai patrimoni illecitamente accumulati nel settore del recupero e riciclo della plastica beni per 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla direzione investigativa antimafia di Catania su provvedimento del Tribunale Etneo nei confronti di Raffaele Donzelli 47 anni, già arrestato per bancarotta fraudolenta nel maggio del 2019 tra i beni sequestrati dalla DIA ci sono due aziende di abbigliamento due auto, un motociclo, conti correnti e disponibilità bancarie il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale su proposta del procuratore Etneo e del direttore della DIA Donzelli è ritenuto legato al clan dominante Carbonaro operante a Vittoria anche i familiari dell'imprenditore erano finiti nei guai nell'ambito dell'indagine sfociata nell'arresto era scattata di fatti pochi mesi dopo una misura preventiva nei confronti del padre Giovanni Donzelli accusato di aver avuto rapporti con l'associazione di stampo mafioso riferibile alla Stida offrendo rifugi e covi e latitanti e mettendo a disposizione la propria casa per le riunioni fra l'organizzazione mafiosa vittoriese e quelle appartenenti ad altri clan per la DDA l'associazione mafiosa avrebbe reimpiegato proventi illeciti in attività imprenditoriali riferibili a Raffaele Donzelli e avrebbe aiutato le aziende a sbaragliare la concorrenza servendosi di metodi criminali come l'intimidazione sistematica ciò sarebbe emerso anche da numerose intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni dello stesso indagato la sua affiliazione al clan Dominante Carbonaro è testimoniata da numerosi elementi raccolti confluiti nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'ottobre 2019 confermata si legge nel comunicato stampa del tribunale del riesame un mese più tardi numerosi collaboratori hanno inoltre chiarito come lo stesso si fosse arricchito utilizzando il denaro frutto delle estorsioni gestite dal gruppo Dominante Carbonaro dal punto di vista patrimoniale la DIA ha accertato l'assenza in capo alla famiglia Donzelli di risorse lecite idonee a giustificare gli investimenti ed una cuspicua sproporzione tra i redditi dichiarati ed il patrimonio posseduto ancora la cronaca ha fallito un colpo in una stazione di servizio a lungomare di Fondachello di Mascali il sistema d'allarme è scattato ha messo in fuga il malvivente sull'episodio indagano i carabinieri tentativo di furto con effrazione nella tarda serata di ieri in una stazione di servizio di carburanti in via Spiaggia a Fondachello di Mascali un individuo utilizzando una grossa pietra ha tentato di scardinare il piccolo box nel tentativo di portare via il registratore di cassa immediatamente però è scattato il sistema d'allarme azionando l'emissione anche di fumogeno così il ladro ha preferito darsela a gambe dopo aver frantumato la vetrata le telecamere di videosorveglianza hanno registrato il tutto e le immagini sono adesso all'avvaglio degli inquirenti per cercare di risalire all'autore del gesto tramite l'antifutto sono stato avvertito mi è arrivato l'allarme che era scattato il nebbiogeno di solito il nebbiogeno scatta o con qualche vibrazione o comunque per tentato furto ci siamo accorti tramite il sistema di videosorveglianza che c'era un furto abbiamo subito avvisato i carabinieri di Mascali della stazione di servizio di Mascali è stata una bravata volevo comunicare che in un gabbiotto prodotto di vetro non possono trovare nulla all'interno più che altro c'era soltanto un computer che non è nemmeno un ferro proprio computer serve soltanto per azionare le pompe quindi magari per le prossime volte eviterei di rischiare un tentato furto un furto per niente quindi soltanto danni alla struttura che adesso dovrà riparare sì, sì, soltanto danni che dovemmo riparare perché altro noi insieme alla società quindi solo danni e niente all'interno non c'era contenuto niente di prezioso o di valore quindi è stato soltanto così il tentativo di un valordo sì, sì, sì ripeto, è stato un abbravato un ragazzo sicuramente non so cosa pensava di trovare ma non sono nemmeno riusciti ad arrivare all'interno che con i sistemi che abbiamo comunque di antifurto abbiamo messo subito in fuga il sistema di videosorveglianza ha registrato tutto adesso saranno svolte le indagini dagli organi competenti certo, hanno già tutti i carabinieri ci penseranno loro sicuramente adesso veniamo all'emergenza Covid per effetto del DPCM e per l'ordinanza del governatore Musumeci si temono adesso rientri di massa in Sicilia in occasione delle festività natalizie la regione dunque si prepara per controlli speciali straordinari ad hoc negli aeroporti di Catania e Palermo vediamo il probabile marcato flusso di rientri nell'isola previsto per le prossime festività di fine anno fa scattare un piano di controllo mirato certamente non ordinario nei principali punti di approdo come ad esempio le aerostazioni di Palermo e Catania e quanto emerge da una ricognizione nei principali scale aeroportuali siciliani congiuntamente svolte dalla regione siciliana e dalle società che gestiscono i due aeroporti per individuare spazi che potranno essere eventualmente implementati con altre postazioni in cui effettuare i test per i viaggiatori in arrivo si tratta di procedure standard e che evidentemente dovranno essere potenziate proprio per evitare assembramenti all'interno delle aerostazioni e prima ancora dell'uscita dei passeggeri dagli aeroporti i sopralluoghi sono solo alcuni degli aspetti organizzativi e dei profilassi promossi dall'assessorato regionale alla salute che predisporrà ogni iniziativa utile di prevenzione in vista dunque delle festività all'aeroporto di Catania oltre alle postazioni già realizzate all'interno del terminal C si sta procedendo a individuare altre aree nel terminal A per poter sottoporre i passeggeri ai tamponi in base ai movimenti previsti già durante la seconda fase della pandemia è stato attrezzato l'aeroporto per le verifiche anti-covid ma queste potrebbero non bastare proprio nei momenti forti dell'anno tra cui il Natale e poi il rientro dopo le festività si tratta di provvedimenti che saranno certamente utili in questo periodo ma che potrebbero essere mantenuti nel corso delle settimane auspicando ovviamente la ripresa del numero dei collegamenti con l'aerostazione Etnea ancora notevolmente in crisi pandemica Questo per quanto riguarda i controlli negli aeroporti intanto va avanti l'importanza del monitoraggio nei comuni sono tante le iniziative oggi e domani screening di mass drive-in anche ad ACI Sant'Antonio e Sant'Agata Libattiati in particolare ad ACI Sant'Antonio postazione a Lavinaio nella mattinata nessun caso positivo screening di massa oggi e domani ad ACI Sant'Antonio e Sant'Agata Libattiati in altri comuni della Sicilia secondo quanto programmato dall'assessorato regionale alla salute per definire il quadro epidemiologico nell'isola ed intraprendere azioni mirate a ridurre la curva dei contagi autovetture in fila di buon mattino a Lavinaio frazione Sant'Antonese dove per l'occasione è stato aperto il campo di calcio montata la tenda che ospite il pool di medici incaricati e rimodulata la circolazione nel tratto interessato che dispone di un ampio parcheggio in attesa del risponso clinico il sindaco Santo Caruso è stato uno dei primi a sottoporse ai controlli sanitari la nostra comunità grazie a Dio non ha avuto tantissimi casi è il momento anche di capire in che situazione ci stiamo trovando in un momento in cui pare che a livello nazionale anche a livello locale è un po' la curva e si stia più attento e quindi è importante avere questa possibilità è un momento e ringrazio l'ASP che ci ha dato questa possibilità e ringrazio ovviamente tutti quelli che stanno collaborando a partire dalla nostra associazione di volontariato che sono sempre e costantemente accanto a noi avere un'opportunità è importante io sono convinto che anche i nostri cittadini risponderanno come sempre alla grande vedo che c'è molto ordine c'è molto rispetto anche ad aspettare questo momento quindi penso che sia un'opportunità che stiamo sfruttando il drive-in covid effettorano i tamponi rapidi dalle ore 9 alle ore 17.30 sia oggi che domani nel comune della Cese 19.000 residenti il test previsto inizialmente per studenti e personale scolastico è stato esteso a tutta la cittadinanza sempre su base volontaria in caso di cittadini cui esito del tampone risulta essere positivo scattano i protocolli di sicurezza con l'isolamento domiciliare e la presa in carico da parte dell'ASP alle 13 la situazione nelle due comunità è la seguente a Sant'Agata dei Battiati su 255 tamponi effettuati sono risultati positivi 10 persone di cui 7 provenienti da altri comuni ad Aggi Sant'Antonio 150 tamponi e nessun positivo almeno in questa prima mezza giornata di test l'appello alla cittadinanza di Francesca Catania il medico responsabile del drive-in di Lavinaio è di fondamentale importanza sensibilizzare la popolazione affinché si isolino appunto gli asintomatici purtroppo gran parte della popolazione non sa di essere positiva e inevitabilmente il contagio non può essere arrestato quindi mi rivolgo alla popolazione tutta venite a fare il tampone perché questo significa tanto per i bambini per i soggetti più a rischio soprattutto gli anziani perché in questo modo cerchiamo appunto di limitare non soltanto appunto la malattia in quanto tale ma anche il numero di decessi che purtroppo lo vediamo sta aumentando progressivamente Il Comune della Cese ha messo in campo la protezione civile l'Associazione Nazionale Carabinieri e il Corpo della Polizia Locale per regolamentare il traffico lungo via Rosso di San Secondo per l'occasione attrezzata con una corsia di ingresso riservata ai cittadini in attesa del tampone Un grazie va all'Associazione Protezione Civile l'Associazione Nazionale Carabinieri che grazie a loro abbiamo organizzato con i comandanti dei vigili urbani questa giornata, oggi e domani per dare la possibilità ai nostri santantonesi di poter effettuare quello che è il tampone e sapere se sono positivi o negativi quindi un'opportunità grazie all'Asp che abbiamo oggi dato ai nostri concittadini santantonesi e intanto buone notizie sulle cure perché anche l'ospedale Cannizzaro ha attivato la raccolta di plasma iperimmune dai soggetti guariti dal Covid da destinare alla cura di chi ne è ancora affetto già nei giorni scorsi due medici che avevano contratto la malattia si sono sottoposti ai prelievi necessari per valutare l'idoneità e potrebbero a breve dunque effettuare la prima donazione l'attivazione dell'azienda fa seguito all'autorizzazione ai centri trasfusionali da parte dell'assessore alla salute Ruggero Razza e richiesta, lo ribadiamo, la guarigione da Covid da almeno 14 giorni per poter essere somministrato il plasma raccolto dovrà inoltre contenere una massiccia presenza di anticorpi ed intanto protestano andiamo all'aspetto economico di questa emergenza e alle conseguenze protestano contro il DPCM i negozianti dei centri commerciali chiusi nei festivi e nei prefestivi non ha senso dicono se la folla si sposta nelle vie dello shopping Sabato sera alle ore 18 via Tennea era così frequentatissima anche per lo shopping sempre alle ore 18 di sabato i centri commerciali Tennea invece erano così al buio, in silenzio, chiusi parlano di sperequazione evidente i tanti negozianti che operano all'interno dei centri commerciali costretti alla chiusura nei giorni prefestivi e festivi che, solo per fare un esempio proprio in questa settimana è significato per loro abbassare le saracinesche dei centri commerciali da sabato scorso a domani, martedì insomma, due pesi, due misure e chi lavora nei centri commerciali è davvero ormai allo stremo qui siamo ai portali di San Giovanni Lapunta certo che c'era molto attesa di questo Natale per salvarci ma noi così non ci salveremo neppure attenzione sottolineo per salvarci non per arricchirci in realtà in realtà oltre al danno economico c'è anche la beffa perché essendo in zona gialla non avremo nessuna forma di ristoro inoltre si sta verificando una concorrenza sleale in quanto i nostri negozi nei centri rimangono aperti e se si voleva creare una riduzione degli assembramenti questo non sta avvenendo in quanto nelle strade continuano a esserci gli assembramenti nei centri commerciali in realtà noi piangiamo i responsabili dei centri commerciali pensano di impugnare il DPCM guardi noi siamo veramente indignati ci stiamo rivolgendo a tutte le istituzioni ai media perché riteniamo che questa discriminazione che è stata fatta per le grandi strutture come la nostra va a scapito dei nostri commercianti commercianti che hanno investito anni di sacrifici e che occupano veramente migliaia di famiglie tra interni tra diretti e indiretti le dico che io ieri sono stata in Vietnea ieri pomeriggio e ho visto lunghissime file davanti alle maggiori insegne diciamo non faccio il nome perché non mi sembra corretto senza nessun controllo da parte delle forze dell'ordine che ovviamente anche numericamente non possono affrontare quei flussi chiudere centri commerciali vuol dire dare alle persone la possibilità di riversarsi tutte in piazza tutte in strada senza alcuna forma di controllo che invece all'interno di una struttura come la nostra verrebbe garantito probabilmente dunque la norma dovrebbe un attimino essere cambiata ma ormai siamo a ridosso del Natale c'era molta attesa per il Natale anche perché i commercianti vengono da mesi e mesi di totale sofferenza assolutamente sì speravamo insomma in questo mese del Natale per cercare di salvare il salvabile anche perché con la struttura chiusa i costi di gestione come vede visto che c'è un pullurare di maestranze i costi purtroppo maturano inoltre i commercianti hanno dentro della merce che rimarrà invenduta quindi speravano in questi 24 25 giorni di dicembre di salvare il salvabile ma purtroppo anche i saldi saranno compromessi fortemente compromessi controlli tantissimi pensavamo che essere interpellati e quindi tranquillizzare quelle che erano le autorità le istituzioni preposte ai controlli tranquillizzarle era un modo per fare capire loro che evidentemente eravamo un posto sicuro un posto in cui sia i clienti che i commercianti possono venire e fruire dei nostri spazi con grandissima serenità però purtroppo le aspettative sono state totalmente disattese mai come proprietà del centro commerciale quindi la nostra famiglia ha messo davvero le mani in tasca rinunciando ai canoni di affitto il problema è che molte attività non ce la faranno a riaprire a Mascali nuova ordinanza del sindaco le scuole resteranno chiuse fino all'epifania al rientro in classe saranno effettuati tamponi sulla popolazione scolastica sentiamo i particolari scuole chiuse a Mascali fino al prossimo 6 gennaio 2021 lo ha deciso il primo cittadino Luigi Messina alla luce del numero dei contagi nel suo territorio ma anche di una problematica idrica che riguarderà i plessi scolastici nei prossimi giorni prima del rientro in aula il 7-8 gennaio del prossimo anno saranno effettuati i tamponi agli alunni ai docenti al fine di tornare sui banchi di scuola con maggior sicurezza i problemi quello principale è sempre il pericolo che si può avere di avere contagiati i ragazzi e poi a sua volta le famiglie e pertanto questa è la cosa più grave ma c'è stata anche la coincidenza che l'azienda Bufardo che ci fornisce parte dell'acqua per il territorio ha mandato una comunicazione che il giorno 9-10-11 sospendono l'erogazione dell'acqua a favore del nostro territorio pertanto questo potrebbe comportare e comporta soprattutto una diminuzione dell'acqua nelle scuole addirittura in qualche scuola potrebbe anche mancare completamente pertanto nel dubbio anche della mancanza dell'acqua abbiamo pensato come amministrazione e soprattutto io come sindaco di prorogare il tutto fino al 6 di gennaio anche in coincidenza col nuovo DPCM dello Stato a livello nazionale che determinava il rientro delle scuole a carattere nazionale per quanto riguardava le scuole superiori al rientro delle vacanze noi con la dottoressa Silvestro che è l'assessore anche a Ramo e oltre che medico curante abbiamo sollecitato l'ASP e attraverso grazie anche al dottore Condorelli e al dottore Diliberto che è stato sensibile alla nostra richiesta abbiamo programmato per giorno 7 e 8 gennaio cioè al rientro dei ragazzi nelle scuole un tampone in modo che si possa verificare se ci sono stati dei problemi se ci sono dei problemi cercando di anticipare il tutto anche perché questa pandemia non è finita noi dobbiamo stare tutti attenti e dobbiamo seguire quelle che sono almeno le minime attenzioni quella della mascherina della pulizia delle mani e tutto quello che ne sussegue pertanto ecco responsabilmente abbiamo preso questa decisione forse non è gradita al 100% delle persone ma credo che metta al sicuro i nostri figli e la nostra popolazione ulteriormente in un momento così grave e di grande disagio questo coincide anche con l'aumento dei casi sul suo territorio proprio in quei giorni quando ho preso la decisione eravamo passati da tre giorni prima che c'era un risultato di 76 circa contagiati nel territorio a 106 c'è un aumento di 30 persone negli ultimi giorni che magari con la scuola chiusa poteva non essere responsabile ma che dava più occasioni di aumentare il disagio anche perché un bambino piccolo per quanto tu lo voglia controllare è difficile controllarlo con la mascherina all'interno della classe è ovvio e diventa sempre più complicato e questo può essere grave sia per il bimbo che nello stesso tempo nella famiglia dove ci sono i nonni e persone più adulte che questa pandemia non la reggono come magari chi è più giovane riesce a gestirla e parliamo ancora di scuola perché fortunatamente si guarda al futuro ad Acireale in vista delle iscrizioni per l'anno scolastico 2021-2022 alla scuola secondaria di primo grado presentazione annuale del POF il piano dell'offerta formativa dell'istituto San Luigi di Acireale in programma appunto l'evento di presentazione del POF mercoledì prossimo alle 18 presso il teatro dell'istituto San Luigi di Acireale restiamo ad Acireale stazione Cappuccini i lavori avranno inizio ad aprile 2021 la conferma questa mattina a seguito di una riunione tecnica sentiamo i lavori di realizzazione della fermata Cappuccini Belvedere Dieci Reale prenderanno il via ad aprile del 2021 e quanto emerso dalla riunione che si è svolta stamani tra l'assessore all'urbanistica Carmelo Grasso il responsabile investimenti per la Sicilia e la Calabria di RFI Salvatore Leucata e i dirigenti dell'ufficio tecnico giudice e domina presso gli uffici comunali di Via degli Olivi l'incontro ha permesso di definire gli ultimi aspetti tecnici sulle rispettive competenze destinata alla costruzione dei passaggi pedorari mentre RFI provvederà alle opere di propria competenza intanto dal Ministero alle infrastrutture sono arrivate rassicurazioni sulla dotazione di 5 milioni di euro che erano stati tolte dal capitolo in favore dell'emergenza Covid scelta che aveva sollevato qualche apprezzione in città sulla reale intenzione del Governo di finanziare l'opera che una volta completata darà impulso alla mobilità cittadina nei collegamenti con la vicina Catania e l'aeroporto di Fontana Rossa attraverso lo scambio intermodale con la costruenda metropolitana intanto sono stati avviati gli atti di esproprio attraverso la variante al PRG secondo le procedure riservate alle opere di pubblico utilità dello Stato un passaggio fondamentale per definire gli ultimi incartamenti e dare il via ai lavori dell'attesa fermata a Cappuccini i cui carotaggi di verifica geologica dell'area sulla tenuta del sottosolo eseguiti dall'ente ferroviario hanno dato esito positivo la nuova stazione ferroviaria sorgerà tra la statale 114 e piazza Cappuccini a ridorso del centro storico restituendo la piena funzionalità al trasporto su rotaie penalizzato dalla scelta adottata nel passato con il decentramento in periferia della stazione ferroviaria a conclusione della riunione odierna abbiamo sentito l'assessore all'urbanistica Carmelo Grasso le novità sono sicuramente importanti e fra l'altro vorrei anche tranquillizzare rispetto a questa vicenda che l'amministrazione ha seguito sin dall'inizio con grande attenzione oggi abbiamo ci siamo visti importanti che sono relativi alle fasi amministrative che poi potranno fare sì una volta completate che nel primo semestre del 2021 quest'opera possa vedere la luce quindi l'incontro di oggi è stato positivo abbiamo determinato i passaggi che saranno a carico di RFI e che saranno a carico del comune e quindi mi sento di poter dire che l'Igiene Leocate è assolutamente operativo perché i finanziamenti che il Ministero delle Infrastrutture aveva assegnato a quest'opera a breve dovrebbero essere nuovamente resi disponibili il comune di Acireale è operativo e oggi sono qui con l'ingegnere giudice e l'ingegnere domine i nostri dirigenti dell'area tecnica e dell'urbanistica per mettere su bianco su quelle attività che da qui ai prossimi 15-20 giorni dovranno essere espletati dal comune di Acireale e da RFI e saranno sanciti da un ulteriore protocollo d'intesa è tutto per questa edizione non ci sono aggiornamenti ci fermiamo qui per il momento la TG torna come sempre in diretta alle 19.45 grazie di averci seguiti adesso c'è il meteo Le previsioni meteo per la giornata di martedì 8 dicembre 2020 il maltempo insisterà ancora sulla Sicilia previste piogge anche a carattere temporalesco quasi in tutte le province mari mosso in particolare il tirreno e il mediterraneo venti ancora sostenuti le temperature nell'isola oscilleranno dai 18 gradi agli 8 a Catania 18 gradi la massima 10 la minima l'isola 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 Autore dei sovrapposti